Mimmo Caruso, questa sera durante la presentazione della lista con Cervella per Alba Attiva e Solidare si è stato definito un vulcano, questa sera confermi questa tua dote organizzando con il GS Stella Maris questo evento e portando ancora una volta il grande calcio ad Alba Il grande calcio, oltre che essere il grande calcio, è una persona, il futuro del calcio Non dimentichiamo che Vittorio Parigini, Under 21, cupillo dell'allenatore di viaggio, andrà agli europei quest'anno e la mia vulcanicità è data dal fatto che vedo, sono felicissimo perché vedo tanti giovani qua a bere, a mangiare e a parlare di sport ma questo è solo l'inizio, io credo che avere a che fare con Bacchetto, con Vittorio Parigini, con Thomas Rincon con tutta l'enocastronomia perché tutti vogliono venire qua a mangiare e a bere ciò non toglie che faremo il massimo per dare a questa città lustro a tutte le attività solidali, a tutto il turismo perché Alba ha lavorato bene e deve continuare a lavorare bene Grazie a Maurizio Marello e grazie al prossimo sindaco che spero che sia Olindo perché io faccio parte della lista attiva solidale quindi ragazzi è solo l'inizio, datemi fiducia e io vi garantisco che non mancherà una serata con tanto divertimento un divertimento sano, un divertimento che fa cultura, un divertimento che ci farà sempre stare più insieme in convivialità